ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri orologini eccoci qua con un altro simpatico episodio delle reaction ai vostri video ossia quei video che vi mandate con all'interno la vostra collezione di orologi come fare lo sapete già no il video possibilmente in orizzontale che durino sette minuti intorno a quella durata lì non di più e poi li inviate su waytransfer.com e mi mandate il link io li scarico e poi li guardiamo qua tutti assieme ci guardiamo gli orologi che avete quelli che avete intenzione di comprare perché poi mi chiedete anche suggerimenti per il futuro i suggerimenti vanno presi con le molle cioè io non è che sono io suggerisco in base alla mia esperienza e i miei gusti poi ognuno in realtà deve decidere da solo si va bene ascoltare tutti ma poi alla fine quando uno deve decidere deve decidere da solo non quale prenderesti tra questo e questo no no quale prenderesti tra questo e questo cosa ne pensi di questo orologio qua io ti dico bra 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 te mi dici bra 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 io ti dico bra 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 cioè deve essere uno scambio di informazioni no una domanda ben precisa ma secondo te questo calibro magari allora ti posso dare un suggerimento ma se mi dici quale prenderesti no quale prenderesti non è la domanda giusta va bene vi voglio ricordare ragazzi che il 12 maggio domenica 12 maggio ci sarà il quinto raduno del canale è il watch meeting presso la gioielleria pasquale domenici di viareggio nella zona antistante la zona pedonale facciamo questo raduno del canale dove ci incontriamo tra appassionati parliamo di orologi e poi possiamo anche entrare nel negozio a provare gli orologi e tutto quello che ne concerne no anche col buon giacomo con tutto lo staff poi stiamo vedendo che di organizzare insomma qualche ospite qua e la magari qualche con qualche orologio qualche informazione tecnica che portano come gli altri anni insomma su una serie di banchetti di contorno ci potrebbero anche essere poi ci sarà anche il gadget di benvenuto ricordatevelo quest'anno credo sia un apolo è un apolo da indossare con orgoglio va bene vi aspetto domenica 12 maggio alle ore 15 l'orologio del giorno oggi è questo è un ultronic il longin ultronic del 1974 con il calibro al diapason quel calibro al diapason che faceva esa che era il consorzio di tutte le case svizzere era un po la risposta svizzera all'acutron al calibro al diapason di bulova infatti c'era anche un ingegnere che proveniva da bulova quindi una sorta di spia interna che è passata alla esa e hanno realizzato questo calibro e si è andata proprio così adesso bando ai discorsi inutilissimi e guardiamo il primo video sperando che sia insomma decente ciao davide ciao sono giuseppe ho 24 anni bravo seguo tantissimo il tuo canale volevo farti complimenti perché secondo me su youtube tu sei il numero uno veramente complimenti ti voglio far vedere la mia piccola collezione non è nulla di particolare però sono orologi che io a cui io tengo molto e siamo qua dai tranne uno che è questo qui te lo faccio vedere subito è il mooswatch classico lo swatch per omega bravo giocattolino simpatico a batteria però comunque sia l'ho acquistato perché era la moda e quindi l'ho voluto appizzare che detesto la moda poi ti faccio vedere questo citizen è un cronografo sono molto legato a questo orologio perché era di mio padre mio padre purtroppo non c'è più e mi spiace e quindi credo che non mi separerò mai da da questo orologio non mi interessa se non ha valore comunque sia è un ricordo di mio padre io ho messo questo nato mi fa impazzire credo di cambiarlo magari con uno in pelle o comunque sia vediamo un attimino se hai un ricordo lo puoi tenere anche così è questo qui è un caravelle by bulova caravelle anche questo purtroppo è a batteria e vabbè ed era anche questo di mio padre che dire il mio orologio preferito non ha come vedi il quadrante è virato preso la sua patina gialla giambagne molto affezionato veramente molto affezionato poi classico seco 5 explorer quadrante blu perché explorer non si chiama explorer ce l'hanno tutti quanti io l'ho voluto comprare perché veramente quando l'ho visto subito mi è piaciuto e ho detto ma lo compro perché lo voglio nella mia piccola collezione bravo ci sono molto soddisfatto del movimento veramente molto preciso tiene bene la carica il mio addirittura raggiunge anche i due giorni barra tre giorni senza che lo utilizzo lui continua ad andare quindi veramente sono 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 molto come tre giorni ma tre giorni poi ti voglio fare vedere questo è molto particolare questo qui è un polgio automatico paliot date questi qui questo modello qui è veramente raro raro perché ho cercato in tutti i siti dappertutto in tutti i vari gruppi non l'ho mai trovato non l'ho mai trovato questo modello in vendita quindi credo che sia molto raro io mi sono innamorato subito perché la forma richiama il tisso prx se bello sono mi da soddisfazioni questo orologio qui non ha un grande valore è un russo però siccome a me piacciono i russi anziché comprarmi un comandirsky ho preferito comprare questo polgio ma te sei sicuro che mai esistito questo modello la domanda sarebbe questa c'è il discorso che non l'hai mai visto sui gruppi ok magari non l'hai visto perché non ce l'ha nessuno è raro ma te era è raro se te sai che è veramente uscito dalla fabbrica paliot quel modello lì eccolo lì nei cataloghi oppure con le fotografie ok se esiste ma se non l'hai mai visto e non l'hai mai visto neppure nei cataloghi o su internet magari ci sa che sia una crocchione perché la forma è abbastanza svizzera occidentale non svizzera occidentale occidentale nel senso no di cultura occidentale design occidentale non russo penso spero che tu abbia fatto tutte le ricerche del caso poi per finire per finire ho questo longin diver degli anni 90 plonger by rodolfo movimento veramente di qualità un orologio pesante si sente al polso 39 di diametro io sono un amante di longin è un estimatore più che è un amante si dice estimatore no cavolo ma sto qua è brutto forte è brutto ai ragazzi infatti il designer di questo rudolf qua che sarà stato chissà chi un ingegnere un architetto un barambambino che non si sa chi è la marchiati con questo nome qua no ma è ansia può no cioè non si può vedere non si può vedere solo lo gioco ma quando l'ho comprato ero innamorato però adesso sinceramente non non mi fa più impazzire un piccolo problemino al bracciale che è saltato via un perno però comunque sia non è il perno è un longin particolare brutto brutto dillo brutto vediamo vediamo magari lo vendo e mi compro un prx lo vendi subito 80 lo vendi facile lo voglio in tutti nulla la mia collezione finisce qui me la male va io mi sono appassionato al mondo dagli orologi da circa un annetto e ho raccolto questi qui credo di acquistare tra poco un mido sean star versione blu che veramente mi fa impazzire quindi non appena compro altri orologini ti farò vedere anche quelli bravo io davide ti ringrazio tantissimo complimenti ancora per il canale a bocca al lupo in bocca al lupo a te alla prossima alla prossima oh ragazzo un neofita che è un annetto che colleziona c'ha gli orologi del padre diciamo che la punta di diamanti della collezione è rappresentata da quel seco 5 che definisce explorer perché c'è tutti quei numerini sulla lunetta bello bellissimo orologio palio te l'ho detto non so non ho idea di cosa di cosa sia se sia se non sia l'ultimo longin veramente obbrobrioso lo vuoi vendere ma dubito che fatica che tu ci riesca faticherai a venderlo oddio se guarda non lo vorrei nemmeno nella mia collezione di orologi di longin vintage no non lo vorrei cioè è veramente un brutto anatroccolo e poi vuoi prendere il mid ocean star o bene occhio perché a breve esce una versione dell'ocean star veramente che non è male è sì proprio un bello orologino che va bene poi lo vedrete su questi schermi non vi preoccupate va bene dai ti promuoviamo perché c'è un annetto quindi di collezione e va bene così prossimo salve davide sono fabio e sono ovviamente qui a mostrarti i miei orologi dai se ti ricordi di me io sono un appassionato di type e citizen e con questo video vorrei mostrarti a te a tutti gli amici del canale come si è evoluta quella che io definisco la mia piccola ed umile ma dignitosa la collezione di orologi bravo faccio questo citizen pro master gmt ecodrive va in un certo senso da completare la serie dei miei ecodrive vero ma è l'unico gmt che osservo ed è anche l'unico orologio in pvd che osservo ha una qualità costruttiva buona a un bracciale in maglia piena fatto bene e finali pieni un orologio che ha delle proporzioni di gradevole al polso in questo momento alla batteria scarica perché è stato un po troppo tassi del truccarsi da questo momento in poi ho deciso di avvicinarmi al mondo degli orologi automatici e ho iniziato con questo entry level un vagari gearmatic carino della famiglia citizen al quale ho sostituito il suo bracciale originale con questo del pro master un bracciale che avevo perché il suo originale semplicemente non mi piaceva ha un movimento mio tra basico ma trovo che con il suo non so che di skin diver un po retro perlomeno ammetta quella sensazione per quello che costa cioè poco più di 100 euro al polso fa la sua bella figura è certo e alla sua dignità perché non copia nessuno essenzialmente successivamente ho acquistato questo citizen pro master n y 00 40 full lume orologio che non ha certo bisogno di presentazioni no al quale ho messo un cinturino nato bravo mi sono azzardato a mettere un cinturino giallo perché non sono all'altezza del maestro anche se sinceramente sono stato tentato ma poi ho desistito bravo questo orologio mi è piaciuto talmente tanto che poco dopo ho acquistato il fratellino in versione di albero ed indici luminescenti per definisco il positivo e negativo essi sinceramente quest'ultimo mi piace un po di più del full lume ha il suo cinturino in gomma originale che secondo me un po troppo rigido e che sto pensando di sostituire con un tropic nero ma vedremo più avanti ma vedremo da ultimo arrivato è un regalo che mi sono fatto per natale questo citizen pro master n y 0 120 con dire al degradé con effetto sabbiato non so se si dice così scusate va bene va bene vorrei usare una definizione per questo orologio che nessuno ha mai utilizzato nel tuo canale è molto molto bello bracciale maglia piena con finali pieni veramente fatto bene mi piace che la corona sia libera da spalletti di protezione nella sua semplicità questo modello di orologio penso che sia destinato a diventare un'icona di casa siti diventato l n y 0 0 40 io sinceramente ho provato ad immaginarmelo con un movimento miota serie 9 anche se a un prezzo più elevato secondo me sarebbe un orologio veramente veramente top ora io vi spiego vi dico cos'è cioè io lo comprerò questo orologio qua prima un po lo prendo l'ho già detto mi serve per l'estate mi serve mi serve per quest'estate non datemi noia mi serve unica cosa che non mi piace di questo orologio è la sfera delle ore a mercedes ti dici diventerà iconico per diventare iconico secondo me uno deve essere o rappresentativo del marchio anche nella fascia entry level deve avere delle caratteristiche non un aspetto completamente differente dagli altri no che si fa notare sto qua è un bel bel diver mi piacciono gli indici rettangolari però poi alla fine a tutti gli elementi abbastanza visti e rivisti no come la lunetta della ghiera con questi numeri qua semplici così la sfera mercedes ecco la sfera dei minuti invece abbastanza originale con la freccia così non è originalissimo è come design però mi piace lo prenderò allora adesso veniamo alle note dolenti quale dare la mia interpretazione di questo orologio sembra assurdo ma preso da un raptus di acquisto compulsivo l'ho acquistato praticamente per caso per caso tutto però l'ho regalato a mio figlio di 15 anni ma allora è vero questo orologio è un giocattolo sicuramente è un giocattolo è un giocattolo che costa calo però e che secondo me non vale quello che costa è bravo ma regalato di un adolescente di 15 anni che si avvicina al mondo degli orologi può avere un senso siamo stati tutti ragazzi cioè se questo può servire a far nascere o alimentare una passione perché no mi sto arrampicando sugli specchi no no va bene va bene no no va bene e poi un cio fecare che non ce lo vogliamo concedere al vettore vittano avrò in tanto di una promozione sul nodo marketplace con la maiuscola ho voluto acquistare questo invicta grand diver l'ho acquistato innanzitutto perché sono stato incuriosito delle innumerevoli recensioni che ho visto di vari youtubers e poi sinceramente perché l'ho pagato su 800 euro allora tutti decantano che questo orologio non omaggia nessun tipo di noto diver blasonato e che ha una sua personalità vabbè io sono contrarissimo agli omaggi perché penso che siano dei falsi autorizzati e ci può stare poi però ne elogiano le qualità costruttive allora non è che un orologio perché ha un bracciale in maglia piena con finali pieni ha un bel bracciale di per sé questo orologio un bracciale così ma è tutto allentato non è di qualità assolutamente poi esteticamente nella sua totalità parlo di bracciale e cassa è completamente lucido non ha nessuna satinatura cosa che ne migliorerebbe l'estetica indubbiamente esaltando nelle linee ma questo tipo di lavorazione si sa che logicamente ha un costo la ghiera ha un gioco veramente esagerato e poi a un diametro cassa di 47 mm di 200 grammi tutto questo ne evidenzia cioè non evidenzia qualità e quando si parla appunto di rapporto qualità prezzo beh secondo me questo orologio costa quello che vale né più né meno a questo punto a parità di prezzo meglio un vagari come questo più carino da grand diver grande costano uguale ma sicuramente il vagare è fatto meglio sicuramente ma sembra di aver detto tutto bravo grazie se deciderai di pubblicare questo video buona vita e lo 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 caro amico l'amante dei diversities che ha iniziato con l'eco drive è anche dimenticabile e poi è passato a farci vedere tutti i pro master bello il pro master marine quello lì telepreso giallo io lo piglio color ruggine sicuramente e col bracciale in gomma non mi fregate non lo prendo il bracciale lo voglio col cinturino in gomma costa di meno e si risparmia l'estate non mi serve bracciale d'estate ci metto il gomma o nato niente dai grazie per i video il invicta qua giù alla fine per l'amore del cielo non si salvava con quelle sfere no a triangolo veramente appuntito che sono anche brutte a vedersi però perlomeno non copia nessuno poi il resto è ispirazione a su mariner no chi era come 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 le pro master indici tondi sono oggetti così dai vanno bene per per fare per fare quello che devi fare da battaglia come so dire no da battaglia però sinceramente il vagari è più personalità è più originale no non sono niente di che nessuno dei due ma tra i due scegliere tutta la vita al vagari prossimo ciao davide ciao davide dalla provincia di lodi lodi innanzitutto volevo farti i complimenti per il canale grazie apprezzo molto la tua simpatia e la tua ironia grazie sono qua volevo farti vedere la mia piccola collezione ma va partiamo subito il primo orologio che ho avuto che mi è stato regalato per la cresima casio g shock casio robusto versatile per un adolescente un primo orologio va più che bene ma si dai scherzo io secondo orologio regalo di mio papà per i 14 anni la cavolo 5 automatico acciaio quadrante bianco guarda lì vissuto tanti graffi tanti maglie molto si sono lasciate andare questo orologio ne ha viste veramente di tutte ma rimasto sempre contento bravo che bello 6 5 14 alto 6 automatico 6 5 automatico a questo c'è ancora oggi quasi simile all'altro questo pensa è stato un regalo che mi ha fatto un amico orologiaio per avergli sistemato la macchinetta per tagliare l'erba regalo molto apprezzato indossato fino ai 16 anni quando ho iniziato a lavorare mi sono voluto togliere lo sfizio come primo orologio cos'è cos'è con i miei primi soldi mi sono preso nulla di che però è stato il primo acquisto il primo orologio acquistato con i miei soldi al quarzo acciaio quadrante bello spazioso che carino da datario sotto eccolo qua vabbè primo orologio che mi sono preso con i miei soldi bravo passiamo poi questi sono un ricordo una coppia di orologi acquistati dai miei genitori verso metà anni 80 uno di mio papà l'altro di mia mamma bravi ferrari due orologini al quarzo non saprei neanche dirti la marca però mi piacevano sono un ricordo li ho tenuti in collezione anche loro bravo finora però è passiamo poi altro orologio bagari by citizen con movimento migliota regalo del mio datore di lavoro si è svenato per i 25 anni di azienda regalo molto apprezzato davvero carino colori sgargianti 25 anni d'azienda un vagari passiamo poi quando compiuto vent'anni sempre come regalo mi sono comprato però usato omega speed master bello automatico mi piace automatico così da io 77 50 mi interessava un orologio coi cronografi perché mi piacciono coi cronografi finestrella della data cinturino in acciaio insomma un orologio da poter indossare tutti i giorni automatico e anche a carica manuale volendo 67 50 giusto per dargli il colpetto nel caso si fermasse bravo col pe poi passiamo a un altro orologio che mi incuriosito l'imponenza della cassa non so se lo conosci un terra cielo mare mamma mia mancino mi piaceva la storia che c'è dietro dei sorci verdi non so se la conosci ma hai potuto sopportare questo marchio qua gli orologi che fanno terra cielo mare sorci verdi e orologi un po così bolt non mi piacciono da questo orologio anche lui acquistato usato del 2003 ma un'edizione limitata 26 di 500 infatti pochi è che cassa di uno spessore notevole e anche diametro 48 millimetri lo metto poche volte qualche occasione ma cosa li pigliate a fare se questo movimento 77 50 valigiu altro sfizio che mi son voluto togliere ma come regalo dei 30 anni top omega si master acqua terra acciaio movimento corsiale 8800 questo diciamo che se avessi compiuto 30 anni 10 15 anni fa sarebbe stato meglio per i soldi che ho speso però fa niente con i soldi che ho guadagnato mi sono tolto uno sfizio mi piaceva me lo son preso va bene non ho capito il discorso passiamo all'ultimo orologio orologio ormai visto stravisto che conoscerai kaki field Hamilton kaki field automatico da 39 mm 38 scusa non mi ricordo bravo orologio per tutti i giorni per ogni occasione per tutti i giorni ma più che bene spero ti sia piaciuto certo fammi sapere cosa ne pensi e alla prossima alla prossima ciao 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 quando uno non sa cosa dire come definire un orologio diciamo orologio da tutti i giorni tanto va sempre bene sa una sigla la gente cosa sta dicendo orologio da tutti i giorni l'omega speedmaster poi la metto il kaki field ecco omega speedmaster e il kaki field sono le due punte di madre le due orologi che insomma vorrei anche io in collezione gli altri diciamo che sono tutti dimenticabili tranne quei bei secchini 5 che ti hanno regalato quando avevi 14 16 anni che sono arrivati fino ai giorni nostri quelli hanno un bel valore anche no nel senso di storia personale tra l'altro l'ultimo secco 5 che hai fatto vedere c'è ancora in produzione è ancora in vendita adesso ancora in produzione nonostante sia passato tanto tempo perché lo stavo per dire ma sto qua è nuovo è moderno è contemporaneo poi mi hai detto che hai preso ai tempi che furono sono rimasto un attimino così dai comunque va bene si può fare un po' meglio dai diciamo quel terracielo mare lì ma insomma poi i di ferrari mi hai fatto vedere insomma dai non è che ti promuovo con un 6 meno dai però insomma intorno a settembre ciao davide ciao amici del canale sono Pierluigi dalla provincia di Frosinone volevo mostrarvi la mia collezione di orologi crescendo con l'età e con la consapevolezza è cambiata di molto infatti il mio primo acquisto è stato questo swatch irony con cinturino in gomma perché perché il suo cinturino originale in pelle gliel'ho dovuto sostituire questo orologio lo usavo giornalmente e praticamente mi si era disintegrato ancora è tenuto abbastanza bene nonostante l'uso frequente dopo di che ho comprato sempre a batteria questo sector periodo è lo stesso e anche questo è stato usato giornalmente abbastanza vissuto bello poi sono passato qua andiamo avanti nel tempo e ho comprato questo citizen ecodrive il quadrante particolare cioè cinturino in pelle marrone niente di che anche questo viene usato giornalmente io li cambio in continuazione metto ogni giorno un orologio diverso bravo dagli un colpo più secco passiamo a questo secco sempre a batteria a batteria con le rifiniture color ottone il quadrante marrone l'altro colpo passiamo questo mi è stato regalato il primo automatico che mi è stato regalato mamma mia un perceo che bruttezza un po' particolare con questa open heart con il calibro a vista sotto il fondello particolare dopodiché ho iniziato e ho iniziato ad acquistare il mio primo orologio con consapevolezza diciamo ho preso questo emitor kaki field officer crono officer con un calibro eta 77 50 anche questo l'ho portato giornalmente infatti si vedono i segni del tempo si le ammaccature senza la sfera secondi è un orologio che mi ha dato tante soddisfazioni uuuu addirittura bella vista un po' ciambella però questo era il periodo poi ho preso si è visto e rivisto sul canale ce l'hanno praticamente tutti eh certo il citizen promaster con ghiera pepsi pepsi questo d'estate al mare è l'ideale dai ma perché li butti così? passiamo a uno degli ultimi acquisti che ho fatto carino il viomatic Hamilton Jets Master preso dal dal dall'amico Giacomo ah dall'amico Giacomo bravo è un modello abbastanza grande è un 44 millimetri 44? avendo io il polso da 19 mi sta molto bene con chiusura de ployant bello un bel cinturino un bello orologio si ci piace questo dopodiché passiamo a Leberhard Champion 5 molto bello a cui ho sostituito il cinturino anche questo perché usato giornalmente il suo cinturino originale si era disintegrato disintegrato e l'ho sostituito da poco il cinturino infatti è abbastanza nuovo è molto bello questo orologio bravo molto bello è il pezzo forte della collezione per me per ora poi volevo mostrarvi un piccolo orologio zenith questo è full gold ma è minuscolo è da donna che ho praticamente sequestrato a mia suocera e non camminava un orologiaio mi aveva detto che non valeva la pena ripararlo io l'ho aperto per per scrupolo e magicamente è a carica manuale è ripartito è carino la corona non è originale chiaramente si vede che è stata sostituita un saluto a tutti grazie e spero che il video venga pubblicato se pubblichiamo anche questo video qua con tutta una serie di entry level le cui due punte di diamante sono l'emilton cacchi cronografo con i due contatori un ore 12 un ore 6 avete visto mancava quello ad ore 9 non c'è la sfera dei secondi continui io non riuscirei a comprare un orologio senza i secondi continui devo vedere che funziona e poi l'Eberhard Champion 5 che è quello lì è un gran bel pezzo quei due orologi lì sono tra l'altro sono due cronografi quindi sono due due bei pezzi gli altri insomma un po' così dimenticabili ecco devo dire la verità che oggi in questa puntata abbiamo visto insomma tanti orologi dimenticabili cioè stiamo un po' scendendo di livello ragazzi vorrei dirvi insomma di fare qualcosa perché va bene cioè per l'amor del cielo il neofita è quello che gli ereditati abbiamo iniziato ora non voglio spendere tanto però insomma nella media oggi non ce la siamo cavata diciamo la verità boh mi sembra di aver detto tutto e meno male aggiungo oggi non mi resta quindi che ringraziarvi per essere arrivati fino qua spero ci siate arrivati perché insomma è stata dura e non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao